In questo appuntamento di Tra le righe incontro con l'autore parleremo dell'ascolto nel libro dei proverbi. Lo facciamo grazie ad un libro intitolato La via della sapienza e del discernimento scritto da un amico di padre Piotv, teologo biblico e docente. Sto parlando di Giovanni Chifari. Buongiorno Giovanni, bentrovato. Grazie Paola e buongiorno a tutti. Senti, nasce da una duplice esperienza sia di approfondimento accademico, biblico, teologico delle tematiche che sono trattate nel libro, ma anche da un'esperienza sul campo, a diretto contatto con i giovani, con i giovani di una fascia d'età che vanno dai 14 ai 18-19 anni, quindi un tempo decisivo nella formazione verso l'adultità. Nasce dunque da questo contesto, duplice contesto. Approfondire gli scritti dei libri sapienziali, molto interessanti sul piano teologico, soprattutto per comprendere questo tempo che stiamo vivendo. Un tempo che potremmo definire di silenzio della profezia, così come avvenne quando venivano scritti i libri sapienziali. Non c'era qualcuno che diceva Dio mi ha detto. Ma e allora cosa fa? Israele, attraverso scribi e sapienti, vanno a riprendere tutto ciò che era già stato detto e scritto, legge e profeti. E lì attualizzano attraverso la preghiera e lo studio. Preghiera e studio per cercare di comprendere la volontà di Dio nell'oggi. Il libro ha come prefazione quella di Don Giuseppe Bellia che è docente presso la Facoltà Teologica di Palermo, in Sicilia appunto. Leggo un passaggio dell'introduzione a proposito proprio dei proverbi, che educano i costumi e correggono le passioni, perché insegnano attraverso molteplici e saggi precetti i doveri della vita. Forse, come dire, è un po' un libro biblico che non conosciamo abbastanza, che dovremmo appunto essere educati alla lettura, alla comprensione, all'ascolto. E tu lo fai attraverso questo libro. In questo libro si parla anche di, questo è una pagina, un passaggio che mi ha colpito, di vera e falsa sapienza, giovani e media digitali. Quindi in un certo senso riesce anche ad attualizzare quello che è l'oggi, in questo libro, alla luce dei proverbi. Sì, innanzitutto c'è tutto un percorso da questo punto di vista, perché chi insegna a sua volta deve essersi fatto discepolo. Esatto. Questa è la prospettiva fondamentale ed ecco la ragion d'essere della prefazione al volume di Don Giuseppe Bellia, che è stato il docente con il quale ho fatto il mio percorso accademico in teologia biblica. E' colui che in prima persona ha approfondito la tematica dei proverbi e dei libri sapienziali in genere, con delle pubblicazioni che hanno avuto vasta risonanza non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, tant'è che sono state tradotte anche in altre lingue, per esempio in inglese. Insieme al professore Angelo Passaro, insieme a Bellia e Passaro hanno fatto queste pubblicazioni sepienziali, frutto del lavoro della Facoltà Teologica di Sicilia, San Giovanni Evangelista di Palermo. Dunque da un lato ho approfondito con lui queste tematiche, che ho poi riscoperte attraverso un docente pugliese, Don Sebastiano Pinto, anche lui un grande esperto del libro dei proverbi, che ha approfondito sul piano accademico, teologico, anche lui insegnando tutte queste tematiche. Dunque con questo duplice punto di riferimento mi ha consentito di approfondire meglio queste tematiche e di calarle in un vissuto di tipo lavorativo anche, che però mi piace chiamare missione, cioè stare a contatto con i giovani. E dunque i giovani hanno bisogno di riscoprire il tema della sapienza. Perché in questo libro dei proverbi abbiamo un padre e maestro, dunque ha questo duplice ruolo, che guida un figlio e discepolo sulla via della sapienza e mostra che la sapienza è qualcosa di affascinante, di bello, ma similmente potrebbe suscitare fascino verso il giovane anche la stoltezza, che è paragonata ad una prostituta, ad una donna di facili costumi. Dunque il giovane è posto dinanzi ad una scelta, dell'originalità, dell'autenticità, piuttosto quella della dispersione. Saper scegliere un percorso alla luce della sapienza farà sì che il giovane sceglierà quest'ultima, cercherà di riscoprire il fascino verso ciò che dà senso alla vita. Ma non si può improvvisare, è necessaria un'educazione, una formazione e questo avviene attraverso le scritture, riscoprendo il primato delle scritture, della parola di Dio, che mettono appunto in relazione con Dio stesso, perché oggi si parla molto di discernimento, ma non ci può essere discernimento senza la mediazione delle scritture, della parola di Dio. Il discernimento, cioè, non è soltanto un'operazione di tipo orizzontale, ma presuppone il mettersi in relazione con Dio attraverso le scritture. E poi abbiamo detto tante volte, le scritture conducono all'Eucaristia. È chiaro. È chiaro anche, come dire, il percorso che tu hai voluto fare e che ti ha portato a scrivere poi questo libro. Ti suggerisco il titolo di un altro capitolo, che è Onora tuo padre e tua madre in dialogo con il Decalogo. Sì, innanzitutto il libro dei proverbi che abbiamo preso in esame dal capitolo 1 al capitolo 9 e poi il capitolo 31, dunque soltanto l'introduzione, non la collezione dei proverbi in sé, perché questa introduzione è propedeutica e preparativa all'analisi e approfondimento di tutti quei proverbi che caratterizzano la restante parte del libro. È questa che noi prendiamo in esame. Non si può accedere a quella collezione senza che ci sia questa base, questo punto di partenza. E allora ci sono dei passaggi all'interno di questa prima parte del libro dove viene messa in evidenza il ruolo della famiglia, che è decisivo, fondamentale, è una delle cose che vediamo disgregarsi oggi. In particolar modo nel capitolo 1, versetto 8 e poi nel 9 è detto il padre dice al figlio, ascolta o figlio l'istruzione di tuo padre e non rigettare l'insegnamento di tua madre. Cosa vuol dire? Che viene fatta una distinzione di ruoli tra il padre e la madre. Il padre deve come offrire l'orientamento fondamentale a livello di istruzione, che non è concepibile soltanto come un discorso di dottrine, ma proprio come uno stile di vita, un'opzione preferenziale per certi valori, innanzitutto per la relazione con Dio che viene presentata. Ma non disegnare gli insegnamenti della madre, in termini ebraico è una Torah materna, proprio perché la donna in questa prospettiva è chiamata a stare vicino al figlio ed accompagnarlo nella ferialità. Ora, tutto questo è visto anche in una prospettiva di pedagogia biblica, di percorso che Dio fa fare al suo popolo attraverso anche il dono del decalogo, che poi non sono altro che dei consigli che vengono offerti e suggeriti al giovane e a tutto il popolo di Dio affinché rimangano nella relazione con Dio, perché di questo si tratta. È sapiente chi ascolta consigli, è imprudente, è poco sapiente chi indurisce la propria mente e il proprio cuore, rigettando ogni tipo di sollecitazione esterna. Vorrei puntare un'altra volta l'attenzione, visto che siamo alle battute finali, su un passaggio appunto dell'introduzione, in cui si ribadisce l'unica finalità, lasciare che i giovani si incontrino con la sapienza e siano da essa custoditi. In questo momento storico, come dicevi anche tu prima, è una qualcosa di fondamentale al quale i giovani devono aspirare, ma soprattutto devono esserci dei maestri che possano guidarli in questo. Esattamente, e cioè non basta ascoltare i giovani. Questo può essere al massimo un aspetto propedeutico, preparativo, una antropologia di base, ma poi occorre anche dare loro una direzione, una direzione ben precisa, perché oggi viviamo in un tempo dove ci sono facili distrazioni ed è divenuta molto più difficile e complessa la vita spirituale. Distrazioni anche attraverso delle sollecitazioni esterne, lo stesso continuo guardare il cellulare, pensiamo ai giovani, le varie notifiche che intervengono sul display del cellulare, tutto ciò che riguarda quel mondo. È una continua fonte di distrazione, perché anche sul piano visivo determinano uno spostamento, ti fanno spostare da una focalizzazione ad un'altra. E tutto ciò crea frammentazione, è sempre un interrompere qualcosa. Dunque influiscono sulla fase di riflessione, perché riflessione significa flettersi due volte, piegarsi due volte. Influiscono sulla capacità di profondità, che viene meno, c'è più superficialità. Allora bisogna trovare nuove strategie, innanzitutto per passare dal primato dell'immagine al primato dell'ascolto, costruire un percorso a partire dalla pedagogia dell'ascolto. Ritengo che questo percorso, che non nasce con me, ma è già prima di me, e di cui anche l'autore si fa, mediatore, strumento, possa essere importante per educare i giovani a questo nuovo approccio, riscoprire il primato dell'ascolto, perché chi cerca la sapienza è da essa custodito. E questa sapienza, una volta che irrompe nella vita di una persona, ritesse la coscienza di questa persona stessa, alla luce della parola di Dio, e tutto potrà apparire in una prospettiva differente. Allora, un libro che vogliamo consigliare ai maestri, che poi, come dire, possano far innamorare i giovani di questa sapienza, però se a leggerlo è anche un giovane non può, no, che farci piacere, soprattutto riempirti di gioia, Giovanni. La via della sapienza e del discernimento, l'ascolto nel libro dei Proverbi, la prefazione di Don Giuseppe Bellia, firmato da Giovanni Chifari, teologo biblico, docente, collega giornalista, ecco, anche scrittore. Grazie per averci regalato questo momento di approfondimento, ti aspettiamo per una nuova obbligazione, per un nuovo libro. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.